Un'autentica impresa, una sorta di miracolo sportivo, l'antica storia di Davide che abbatte Golia. Il Brescia conquista la Coppa Italia 2024 superando ai rigori la corazzata Prorecco. Neppure la brutalità fischiata a Gitto dopo appena due minuti ha cambiato la storia della finale. O forse sì, perché i ragazzi di Sandro Bovo si sono compattati. Zalanchi ha sprecato il rigore e nei quattro minuti di inferiorità il Brescia si è difeso con lucidità e ha ritrovato la parità numerica sul punteggio di 2 a 2. Galvanizzati dal fatto di essere ancora in partita hanno fatto valere tutte le superiorità a disposizione andando avanti e chiudendo secondo e terzo tempo con un vantaggio di misura. Nell'ultima frazione il Recco ha alzato i ritmi, ha pressato e rimontato portandosi addirittura sul 10-9. La rete del pareggio di Gianazza a metà quarto tempo è l'ultima rete e poi si va ai rigori, segnano tutti, proprio tutti. Poi Tesanovic blocca il tiro di Fondelli e Brescia è tutta in acqua a festeggiare la sua seconda Coppa Italia a distanza di 12 anni. No, io non ci credo ancora, nel senso che veramente non ci credo, faccio fatica, però sono molto contento, molto contento perché abbiamo giocato veramente con un cuore, con un animo forte, non abbiamo mai mollato per tutta la partita. Quest'anno la soddisfazione è grande, sette giocatori cambiati, quattro giocatori del vivaio, battere una squadra come la Prorecco era un sogno, ma non ci posso credere ancora.